ciao bimbi è arrivato un mega pacco e ordinato primi di novembre per le mie riprese bushcraft coltelli e robe andiamo a vedere cosa c'è dentro vai ovvero creazione uso un coltellino fighissimo l'apri faccio che sia prima cosa che ha fatto girare il mondo di sotto più parlata nell'ultimi tempi di sicuro vi faccio vedere cos'è no bimbi via stavolta l'esagerato mavic mini casa garzia tra i combo eccolo e niente ora si va a vedere tutto a modino e poi mi rimanderò poi al volo e l'ho preso apposta perché c'è un hovering che pazzesco e portarlo nei boschi dove vado io mi sembra nostra figata da paura tornando a noi eccola qui cosa troviamo dentro il pacchettatissimo qui come possiamo vedere ci sono i paralleli che c'è anche lo stemmino e la graziosa bolsina dji mavic è veramente piccina c'è la relazione molto impressionante poi dentro oltre c'è altre cose spacchettamenti ci sarà carica batterie e robe vediamo ora concentriamoci un attimino su questo discorso va perché qui c'è da davvero da vedere il tutto ora veramente bellina veramente esagerata veramente esagerata veramente esagerata buah come è ora vero ragazzi strepitoso no io bisogna senta subito questo coso di no ragazzi non vi rendete conto cos'è vabbè manca la batteria sicuramente cioè non vi potete rendere conto di un appiccino è di una cosa impressionante veramente un cosino clamoroso veramente clamoroso carica batterie 3 multiplo qui ci abbiamo il radiocomando ecco eccoci qua ma questo è pesante eccoci qua buah sentivi come sono duri l'antenna veramente bello veramente fatto bene ci abbiamo gli stick da mettere vip e veramente esagerato eh grazie a dire ai non è che scherzzi bello 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 non è plastione questo è tanta roba veramente bello è una cosa impressionante da quanto è leggero da come si muove cioè come si muovono le gambette tutto c'è una cosa però nello stesso tempo sembra buah che c'è materiale buono ottimo cioè guardatelo perché è veramente esagerato c'è esagerato mano batteria qui dietro apertura ora poi metterò tutto in carica dai domani si vede un attimino se si fa un volettino sulle coste di bornessi se abbiamo tempo ok e niente ragazzi per ora è l'inboxing e poi si vede un attimino il fan voletto ciao 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 ovviamente non sono un esperto di droni ci sono proprio dei canali apposta dove io mi sono un po appassionato e seguo 4 5 specialisti proprio di queste cose ma in particolare il mio amico fiorentino biganet e anzi ve lo consiglio ve lo metterò qui poi il suo link del canale perché lui fa proprio questo in prevalenza e quindi è un guru dei droni e spiega benissimo tutte le cose e quindi anzi lo saluto e presto spero di volarci insieme magari o dalle sue parti o dalle mie ciao biganet e quindi